House affordability. Ormai se ne parla in tutto il mondo. Detto terra terra e nella nostra lingua madre, l'house affordability descrive quel fenomeno dell'accessibilità a un immobile, sia nella forma dell'affitto che nella forma del mutuo. In tutto il mondo civilizzato, Italia compresa, si discute ormai da anni della sempre crescente difficoltà, soprattutto da parte dei giovani, di potersi permettere un appartamento nelle più grandi città. Questo perché sia i prezzi degli affitti che i prezzi al metro quadro per chi volesse acquistare sono in crescita continua e costante. C'è un luogo però nel mondo in cui tutto questo non succede. Questo luogo è Tokyo. Che cosa ha il Giappone di così particolare per cui i prezzi degli immobili non sono così proibitivi come nelle principali città italiane, europee e americane? È il tema che affronteremo nel video di oggi. Quindi mettiti comodo perché faremo insieme un viaggio in Giappone per scoprire perché le case a Tokyo costano meno che altrove. Quando ho letto che le case a Tokyo costano meno che a Shanghai, ti dico la verità, sono saltato dalla sedia. Questa cosa mi ha sorpreso perché gli affitti a Tokyo sono il 19% più bassi che a Shanghai, con tutto che nonostante la crescita economica che ha investito la Cina, i redditi del Giappone sono ancora sensibilmente superiori. Se poi confrontiamo i prezzi di Tokyo, per esempio con Londra o con New York, scopriamo che Londra è il 160% più cara e New York addirittura il 290%. La prima cosa che ho pensato anch'io, ho detto vabbè, è un problema demografico. Lo sappiamo tutti che il Giappone, come l'Italia o la Germania, è uno dei paesi con la popolazione anziana più consistente e crescente in quanto a numero e quindi probabilmente ci sono sempre meno persone che vogliono le case. Tuttavia, diversi studi sulla demografia ci dicono che è vero che il Giappone nel suo complesso sta perdendo abitanti, ma l'area metropolitana di Tokyo, così come le più importanti aree metropolitane al mondo, negli ultimi decenni è in crescita. Quindi, anche se c'è meno gente, le persone che restano vogliono tutte vivere a Tokyo ed intorni. Quindi la popolazione di Tokyo è in aumento, nonostante la popolazione del Giappone sia in calo. Che ti ricorda questa cosa? A me per esempio ricorda Milano, per fare un esempio, per fare un paragone in casa nostra. Pertanto, da un punto di vista demografico, Tokyo è simile a tutte le altre metropoli occidentali. Quindi, qual è la caratteristica principale? Perché a Tokyo le case costano poco? La risposta è semplice, ma poi te la devo spiegare. I prezzi di Tokyo sono accessibili, semplicemente perché in città il numero di case disponibili viene adeguato di volta in volta in base al numero di abitanti. Quindi, se aumentano gli abitanti, aumentano anche le case a disposizione. Questo è dovuto a un approccio, se vogliamo, unico che ha il Giappone nella pianificazione urbanistica. Perché sia in Europa che negli Stati Uniti, per costruire è necessario rispettare stringenti vincoli normativi. Non è possibile costruire ovunque in maniera indiscriminata, ma di solito ci sono dei piani regolatori a livello comunale che disciplinano le operazioni che devono essere fatte in generale, come devono essere gli edifici che si trovano in quei luoghi. Pensa solo che, lo vediamo nella vita di tutti i giorni, a volte per riqualificare un'area ci vogliono dieci anni. Proprio perché ci sono vincoli normativi, è necessario rispettare tutta una serie di parametri e spesso, soprattutto in Italia, lo sappiamo come va a finire, tra cause infinite, persone che si oppongono, persone che sono felici, interessi vari che si intrecciano, per tirare su un palazzo ci mettiamo un decennio. In Giappone invece tutto questo non accade, semplicemente c'è più libertà di costruire. E anzi, ti dirò di più, in certi casi il costruttore di un palazzo può demolirlo a un certo punto e ricostruirlo da capo in base alle nuove esigenze. Quindi se servono più unità abitative può demolire quel palazzo e farne un altro più grande che rispecchi la mutata esigenza. Ma poi c'è un altro tema, se vogliamo culturale e in parte anche normativo. In Giappone le case non sono viste come un bene che si rivaluta nel tempo. Questo accade per due motivi, sia perché la durata media delle case è molto bassa, il Giappone è un'area interessata da fenomeni sismici molto importanti e la vita media delle case è di circa 30 anni. Poi c'è un altro tema invece che riguarda l'imposizione fiscale a livello ereditario. Per darti un'idea, l'imposta sulle successioni in Giappone è pari al 55%. Hai capito bene? Se tu lasci a un figlio una casa che vale 100.000€, l'imposta sulle successioni sarà di 55.000€. Lo ripeto ancora una volta, 55%. Per darti un'idea, se non sa come funzionano le cose in Italia, nel nostro paese per figli e coniugi fino a 1.000.000€ c'è una franchigia totale. Quindi se tu lasci 1.000.000€ a due figli, quindi 1.000.000 e 1.000.000, non paghi praticamente nulla. Oltre il 1.000.000€ la liquida è pari al 4%, che voglio dire, paragonato al 55% è nulla. Capisci benissimo che in Giappone non c'è nessuna convenienza, da un punto di vista economico, nel lasciare una casa a un'erede, perché dovrà pagare allo Stato più della metà del suo valore, e poi soprattutto con il rischio terremoti, le case comunque sono sottoposte a continui interventi, tali per cui non sia poi così conveniente possedere un immobile per tanti anni. Fermo un attimo, se stai guardando questo video è perché molto probabilmente stai cercando di capire come gestire in maniera più efficiente e probabilmente autonoma le tue finanze. Come faccio a saperlo? È dal 2014 che mi occupo di questa attività, mi chiamo Davide Marciano, lo sai benissimo perché stai guardando il video, e sono il cofondatore di Affari Miei. Mi auguro che il video che stai guardando ti sia utile. Se vuoi cominciare ad approfondire in maniera chiara, precisa e immediata il mondo della gestione autonoma del patrimonio, qui in descrizione trovi un report con tre ETF scelti dal Centro Studi di Ricerche di Affari Miei, che ti introdurranno appunto nell'ambito della gestione efficiente del tuo capitale. Non è niente di lungo, complicato o difficile, ci vogliono veramente pochi minuti per leggere questo report in PDF che abbiamo preparato. Clicca qui in descrizione e scaricalo subito e poi fammi sapere se ti è stato utile. Chiudo questa mia interruzione, buona prosecuzione. Ciò rende chiaramente il mercato più fluido, perché non è in mano ai privati, ma in mano alle aziende che possono fare e disfare gli immobili con una relativa semplicità. In più c'è un altro tema che è interessante. Prima ho fatto la battuta citando agli esempi che abbiamo vissuto tutti quanti noi, probabilmente in Italia, per cui ogni volta che si deve fare un'opera pubblica o anche un intervento privato, c'è sempre qualcuno a cui queste cose non vanno bene. Nel mondo angolofono mi fanno sempre sorridere perché trovano sempre un nome, un acronimo adatto per queste persone, che sono definite NOT IN MY BACKYARD. Non fate questo praticamente nel mio quartiere, davanti a me, vicino a me. Questo fenomeno è forte in realtà in tutto il mondo, non solo in Italia, ma in Giappone come viene evitato? La pianificazione urbanistica non viene fatta a livello locale, ma viene fatta a livello centralizzato. Quindi mentre in Italia tu puoi bloccare per 30 anni una strada, se ti sta antipatico il sindaco, o comunque non vuoi che la strada passi nel tuo terreno, in Giappone semplicemente non lo puoi fare perché dovresti avere il potere di arrivare al governo centrale. Capisci benissimo che la signora Gina da Burgaro Torinese o il signor Giuseppe da Montesano sulla Marcellana non può arrivare al governo di Roma e magari bloccare una costruzione. Lo stesso accade anche in Giappone, te l'ho romanzata a livello italiano, per farti capire come viene regolamentata questa cosa. Nel leggere tutto questo mi sono fatto una domanda anch'io, mi sono chiesto, ma l'approccio giapponese che rende abbordabili gli immobili è fattibile in Italia e in Europa? A mio parere è molto difficile perché prima di tutto noi diamo un'importanza al nostro patrimonio architettonico maggiore e ci mancherebbe, direi. In Italia e in Europa ci sono tantissimi edifici di importanza storica e con una tradizione quantomeno secolare, non possiamo buttarli a terra perché magari dobbiamo costruire un grattacielo. Questa cosa in Giappone non c'era, non c'è o comunque non è sentita come lo è da noi e quindi è possibile veramente buttare a terra un intero quartiere e rifarlo a seconda delle mutate esigenze. Noi oggettivamente in molte città non lo possiamo fare ed è giusto che sia così. Poi io ci ho scherzato prima, però da noi le case sono un asset intergenerazionale perché capisci benissimo che se io devo trasferire a un erede un milione di euro di immobili senza pagarci nulla, non ho alcun interesse a che il mercato diventi fluido. Anzi, tante volte le persone acquistano immobili o lo hanno fatto in passato proprio perché avevano l'obiettivo di trasferirli agli eredi ed è difficile che si facciano interventi in tal senso. Last but not least, in Italia e in Europa esiste un sistema di regolamentazione locale molto stringente in tema di costruzioni. L'ho detto già prima, in Giappone possono buttare a terra un edificio e ricostruirlo. Da noi viviamo situazioni per cui qui a Torino ci mettono dieci anni per costruire un paio di fermate in più della metropolitana e quando vogliamo riqualificare un quartiere ci vuole veramente tanto tempo perché appunto dobbiamo dare la possibilità a tutti, compresi magari anche a chi è proprietario di uno scantinato di poter dire la propria ingolfando i tribunali in certi casi. Quindi tutto questo rende difficile un approccio come quello giapponese. Però ho voluto comunque portare all'attenzione di chi si interessa di immobili, di finanza personale e in generale di economia questo tema perché l'ho trovato molto interessante dato che in maniera voluta oppure no di fatto risolve uno dei problemi principali che in questo momento sta caratterizzando il dibattito economico in tutto l'Occidente. Se il tema dell'immobiliare ti interessa, puoi approfondire guardando il video che trovi qui accanto a me dedicato all'acquisto della prima casa e alla 5% rule, io ti saluto, a presto, ciao!